ehi siri barzelletta ci posso provare perché i gatti non escono in inverno perché fa un cane a ninalto allora mamma mia ragazzi perché fa un freddo allora grazie immensamente per il supporto che continuate a dimostrare a questa serie so otto mesi che la portiamo e vedo ancora che insomma entriamo anche nel vivo di alcune bombe di calcio mercato alcune squadre se so ricordate subito si stanno muovendo in questo momento io vi chiedo 2500 mi piace entro alle 18 e oggi stesso vi porto il doppio episodio di giornata insieme a bonfabio dipende tutto da voi lascia mi piace non costa niente vi do anche la maniera alternativa per raggiungere l'obiettivo doppio episodio 200 nuovi iscritti a partire da questo momento quindi se mi seguite sempre su questo canale se aprite spesso i contenuti e non siete ancora iscritti fatelo attivate pure la campanella così varia sempre la notifica non vi perdete più niente potreste aiutarvi e aiutarmi a raggiungere il doppio episodio di giornata se no probabilmente se ne riparlerà domani detto questo indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello avevo detto il real madrid cerca un portiere curto a se scocciato crociato una cosa in altra nel frattempo sono successi 897 mila cose ma avevo detto un portiere che con la sua nazionale non una nazionale di quella però è così e questo e quella e quella portiere che gioca in spagna e monchi era bonu o bono che dir si voglia l'avete indovinato praticamente tutti però nel frattempo è successa un'altra cosa perché praticamente il real madrid si è preso un portiere che non è bonu che non è bono dice chi è io vi dico solo che non vi dico il nome ma vi dico che sto portiere è stato cercato fortemente anche dal Bayern che lui lì per lì aveva dato disponibilità quando ha sentito puzza o profumo tra virgolette di real madrid ha dato sola ha dato buca al bayern ha detto no io vado a real madrid non vi posso ti do gioca perché se no capite di chi sto parlando chi sta per comprare o ha appena comprato e mo pubblico subito appena finisco di registrarlo non vorrei che nel frattempo si ufficializza definitivamente chi ha comprato il real madrid o chi sta per comprare come futuro portiere lascio cuore a chi indovinerà e poi ne parliamo con calma nel prossimo episodio ma sto lecce che si appresta a fare la cessione più onerosa della sua storia cedendo julman dallo sporting per 19 milioni di euro più 3 di bonus ragazzi ma 22 milioni di euro per julman è veramente tantissimo che poi bene o male era quello che chiedevano perché mi ricordo la roma si era interessata mi pare che hanno sparato addirittura 25 mosse non erro e la roma era rimasta un attimo così dice sì per quanto è bravo sono 25 milioni va bene comunque sono soldi che entrano che possono ipoteticamente decidere di reinvestire e poi è una situazione in alta e va qua e va là e va sotto e va giù e va di è ha ricevuto sembrerebbe un'offerta molto importante dal punto di vista economico da parte del basco da gama sta per accettare se già non ha accettato perché funziona così io registro il contenuto nell'esatto momento in cui registro non è fatta chiudo la registra finisco di registrare e si chiudono tutte le operazioni di calcio lo fanno apposta io poi pubblico il video 10 minuti dopo e sto cambiate 12 mila cose va benissimo c'è un giz yunda yunda onizuka tai yunda ricordate no il dibala daru che poi all'epoca assomigliava dibala misto a ragazzina il trono di spalle ricordate ragazzi poi è arrivato pure dibala comunque il dibala turc adesso abbiamo quello originale chi se ne vede quello passa da olimpic lione dall'olimpic marsiglia al fenerva c'è per 15 milioni di euro dice che c'entra a roma niente se figlia solo il 20 per cento sulla futura rivendita 3 milioncini che piglia e incassiamo così bono dessi tempi in c'è mona lira bono come il pane ecco visto che abbiamo parlato di roma ho già bestemmiato insomma in una maniera anche abbastanza preponderante prepotente proprio rischio scomunica sul primo canale youtube perché madich non era una fake news raga non era una fake news si era impuntato veramente voleva andare a renna come cazzo si chiama e la roma si è trovata costretta ad accettare ad accettare la proposta del renna che all'inizio era imbediamo una lira poi sono diventati 3 milioni di euro lui si è impuntato addirittura dicono che abbia smesso di allenarsi per più di qualche giorno perché l'intenzione era quella di andare al renna quindi siamo stati costretti lasciate sta le dinamiche del calcio mercato in entrata ne riparleremo sicuramente e vabbè questa ho detta praticamente era l'indiscrezione l'indovina indovinello messias prima di passare al genoa ha rinnovato con il milano fino al 2025 perché perché c'aveva il contratto in scadenza del 2024 se non rinnova voi capite bene è una situazione un po' particolare no perché col contratto a un anno di scadenza poi capito se il genoa eventualmente vuole comprarlo perché è prestito conditto di riscatto dice però se scade il contratto quindi ho pago di meno ti do meno soldi quindi l'hanno fatto rinnova i furbi vabbè tutti giustamente hanno fatto rinnova l'hanno mandato al genoa così se il genoa lo vuole il diritto di riscatto insomma è a cifre sicuramente vabbè ma parliamo dei spicci tra virgolette insomma qualche milioncino d'euro ma io so sicuro che messias troverà una dimensione importante sono quasi sicuro di quello che vi dico al genoa ovviamente in ottica salvezza e non solo scouten io non riesco mai a dirlo sono 12 anni che sta scaden psv ragazzi 15 milioni di euro al bologna non ho capito se è chiusa se è definita se è fatta perché poi queste operazioni calciomercato ma anche su sky cioè le fonti più attendibili non so cioè ne parlano veramente poco danno più spazio forse è una mia percezione su scouting non ho trovato conferme definitivi non ho trovato l'ier we go di fabrizio romano però insomma dovrebbe andare al psv per 15 milioni in una cessione comunque importante per bologna sono sordi freschi noceron boatenga come si chiama kevin prince boatenga 36 anni si è ritirato si è rotto lì coglioni ha detto basta tanto i sordi l'ha fatti quindi chi se ne frega poi bernardeschi in ottica beciktas plish com to beciktas ci stanno veramente e bernardeschi ragazzi non so se sapete la storia cortoronto cioè un faustronzo sono successe cose particolari ha litigato a bestemmia prima si vado ai fiorellini i cuoricini e farfalline i broccoletti e poi invece ragazzi stanno a fare il cortello cioè non si possono vedere cioè se se potessero piare a pizze se pierebbero a pizze da mattina a sera e quindi probabilmente un amore capito durato breve ma intenso e quindi bernardeschi invece loro l'annasse perché si è rotto veramente lì coglioni e potrebbe andare a beciktas vi ricordo c'è stato anche l'interesse se non sbaglio del bologna se non sbaglio anche del napoli se non sbaglio anche per un altro club della serie a forse era la fiorentina alla vota non mi ricordo no non era la fiorentina qualcuna non ha un club un po più di medio bassa classifica o comunque media classifica bernardeschi ricca non resta al toronto anche se lo riempivano dei sordi a beciktas pure comunque in turchia i sordi te li allungano la telenovela samarzic ragazzi adesso ne parliamo ma veramente antonio cazzaro spostate proprio è stata una situazione veramente anche abbastanza vergognosa c'è a livello di come è uscito il padre de si de gnonto che c'entra il padre de samarzic diciamo che non mo ci arriviamo allora atalanta de ketelar si fa qualcuno già mi stava a dire dice gabbo dice si tu ne hai parlato ok c'era stato quasi l'iruigo de fabrizio romano qualche a sto punto qualche settimana fa non era la settimana scorsa si parlava de ketelar e de scamacca no e qualcuno si stava a preoccupare ci sono stati degli intoppi non ho capito se dal punto di vista burocratico cifre o cose comunque l'ha detto adesso è arrivato l'iruigo è fabrizio romano se non sbaglio ieri sera ha detto si fa prestito più diritto di riscatto più percentuale sulla futura rivendita diritto di riscatto e non obbligo quindi la percentuale sulla futura rivendita scatta solo se lo comprano in via definitiva non posso dire nulla ne riparle ma arrivano notifiche nel frattempo quindi per me l'ha detto pure casperini dopo atalanta juve tra l'altro una partita di merda finita 0 a 0 ci sono stati gol ragazzi dice hai fatto il post partita per amiche vuole 0 a 0 metto a fare post partita cioè veramente la sbattacoccia non facciamo di che atalanta potrebbe arrivare allora la situazione anche dei bonucci ragazzi è molto particolare la juventus lo ha messo fuori rosa lui ha detto no all'ajax che lo vorrebbe a tutti i costi e però lui stesso vuole agire ha mandato una pecca da juve per il re integro perché c'ha un contratto in essere sta per agire per vi regari per il re integro in rosa ragazzi per restare quindi non va a finire bene secondo me sta storia va a finire abbastanza male poi vederlo in amichevole seduto su il classico sgabbello ma rievocato dei ricordi veramente incredibili e impagabili Barrenecea Barrenecea come cazzo si chiama è un nuovo calciatore del Frosinone o comunque è vicinissimo a diventarlo quindi Frosinone che vuole rinforzarsi con la gioventù juventina per cercare ovviamente di ottenere l'obiettivo principale l'obiettivo numero uno la salvezza che in questa saria sicuramente non è cosa facile Dionisi stancazzato non lo ha detto ovviamente in maniera allenatore sassuolo non lo ha detto in maniera polemica però ha lasciato intendere che numericamente sono incompleti ha detto proprio siamo numericamente incompleti poi ha aggiunto qualche altra parola ha fatto capire che manca più di qualche calciatore ragazzi sì ok è arrivato il sostituto dei frattesi e via dicendo ma gli mancano calciatori importanti mi metto anche nei panni di un allenatore che si ritrova magari a dover giocare con quello che c'è a disposizione no non ti puoi esprimere al massimo perché se nella tua idea del gioco non c'hai ma dico una cavolata una prima vera punta come vorresti o un esterno come lo vorresti te e ci devi adatta qualcuno mette qualcuno che comunque non non c'ha l'esperienza giusta ok non riesci ad esprimerti al massimo e a lavorare come vorresti se poi ti chiedono degli obiettivi e non li raggiungi cioè capito poi l'allenatore è sempre il primo a pagarne le conseguenze sempre il primo capro ispiatorio è sempre il primo responsabile a cui si punta il dito secondo me bisogna guardare tutto bisogna guardare anche gli accordi che vengono fatti prima che l'allenatore sbarca arriva in una determinata realtà voglio per una volta spezzare una lancia in favore degli allenatori è una cosa che è già successa in passato a tantissimi altri anche allo stesso Juric nella passata stagione sono finiti alle mani con Vagnari e ci manca veramente poco rifiniranno sicuramente alle mani aspettiamo tutti il risone Sousa un altro allenatore ovviamente che poi alla fine aveva ricevuto la corte del Napoli se non ricordo male ma anche da parte di altre scuole Napoli era buh vabbè mi scordo tutto ma anche da parte di tanti altri club importanti alla fine ha deciso di restare è arrivato a sto punto e anche lui ha dichiarato servono sette rinforzi cioè capite bene che tu tu credi nel progetto no credi magari che te comprano questo quello e quell'arto tu lo fanno crede e poi ti ha vinto il culo perché alla luce della situazione attuale insomma se dice che mancano sette rinforzi significa che non è che hanno fatto tutto sto cranché anche in questo caso faccio lo stesso discorso dei Dionisi cioè lui deve provare a salvarsi l'anno scorso ha fatto tra virgolette un miracolo il miracolo lo fece all'epoca il suo ex allenatore però pure lui insomma ha risistemato ha risollevato la situazione poi se succede che è colpa de Sousa e lo mandano via retrocessi colpa de Sousa allora Beltran o Beltran chiamatelo come mi pare è un nuovo calciatore della Fiorentina sapete che io non sapevo che è l'acquisto cioè l'ho letto è l'acquisto record della Fiorentina l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina dico ma con tutti i bei calciatori che ha comprato la Fiorentina 25,5 milioni è la cifra più alta che la Fiorentina abbia mai speso possibile per un calciatore sì ragazzi ho ricontrollato ed effettivamente è così pensate quanto credono nelle potenzialità di questo calciatore calciatore interessantissimo c'era stato anche l'interesse della Roma alla fine lui aveva sposato il progetto della Viola quindi vedremo quello che saprà fare per la Fiorentina stessa molto molto interessante come calciatore Gosens all'Union Berlin 15 milioni di euro che entrano nelle casse dell'Inter e l'Inter con la stessa cifra reinveste se prende Carlos Augusto ne ho parlato sul primo canale YouTube operazioni di calciomercato ragazzi molto intelligente non aggiungo altro Svecchi prendi un calciatore che dai via a 29enne che all'Inter ha dimostrato poco o nulla con la stessa cifra praticamente cioè prendi uno più giovane che l'anno scorso ha dimostrato grandissime cose incredibile detto questo la Lazio è su Ugo Ioris dice perché? perché capite bene che Maximiano l'hanno mannato a quel paese no? stanno cercando ovviamente di andare a sostituire il partente con un altro portiere certo che se arriva Ioris però vedete secondo me per quanto ha fatto una stagione super ed è un portierone secondo me in sala passa bene non se la passerebbe bene perché Ioris è pur sempre Ioris Ioris svincolato si nel frattempo una nonna e una zia se non mi ricordo male e quindi vediamo vediamo che cosa che cosa accadrà l'Atalanta dei Ketelar l'ho scritto otto volte orca miseria ragazzi e purtroppo quando vedi quando uno ha poche ore di sonno ma come nel weekend per fortuna ha dormito sette ore ieri stanotte va bene allora andiamo avanti si sta parlando di Allegri all'Italia dice ma come sta cominciando la stagione già stanno a fare illazioni cose mi ricordo dove l'ho letto Corriere, Gazzetta, Sport Mediaset qualche testata giornalistica insomma importante a livello di visibilità e si dice che qualora dovesse fallire con la Juventus o a fine contratto con la Juventus la sua intenzione con Mancini che è stato praticamente blindato alla fine della Nazionale Italiana però c'è questa possibilità c'è questa volontà anche da parte sua tifosi da Juventus che smadonnate per il non gioco di Allegri vabbè smadonneremo tutti insieme ovviamente io sono abituato quindi figuratevi per la Nazionale Italiana in un futuro vabbè è una cosa che per il momento è campata per aria però è uscita fuori vediamo se poi se ne riparlerà allora per quanto riguarda la Roma stanno succedendo cose veramente pazzesche barra esagerated ho già parlato di Matic e vi devo rapidamente dare una panoramica per il centrocampo della Roma poi passeremo e parleremo ovviamente anche della situazione attacco per il momento posso dirvi che se no se esce Matic 99,9% entra Paredes operazione non poi così costosa dal punto di vista economico però lì entrerò nei dettagli in un contenuto dedicato di tutto ciò che penso sembra stia per arrivare anche Renato Sanchez entrambi ovviamente dal Paris Saint Germain due operazioni però differenti una è prestito con diritto di riscatto e l'altra da quello che ho capito a titolo definitivo tot dei milioni di euro di base fissa più bonus però non operazione economicamente così costosa ha parlato Benitez ex allenatore del Napoli attualmente allenatore del Celta Vigo e ha detto Veiga c'ha una clausola quindi è inutile ha praticamente lanciato un segnale in maniera bonaria ovviamente al Napoli e ha detto è inutile che cercate terza milioncino per milioncino da 30 a 33 32 e mezzo 34 e mezzo 35 la clausola è di 40 se arrivate con 40 milioni di euro e c'ha già l'accordo con voi il giocatore vostro se no è inutile trattare cioè praticamente gli ha lanciato il segnale o pagata la clausola o il calciatore resta qui oppure arriva qualcun altro qualche altra squadra che paga la clausola nessuno sembra disposto ad arrivare a pagare la clausola rescissoria tra 10 minuti il Napoli la paga probabilmente quindi per il momento è tutto fermo Napoli che insiste però ho 35 ho quasi 5 milioni che non so pochi in realtà però si sta cercando di capire eventualmente ipoteticamente come chiudere questa operazione di calciopercato come lo pronuncio io questo il Milan è sul difensore centrale classe 2002 del Norwich Omo Bami Dele Omo Omo Bami Dele Omo Bami Dele eh sì l'irlandese ragazzi quindi il Milan cerca un difensore è inutile che ci giriamo intorno esce gabbia deve entrare a qualcun altro non c'hanno fretta stanno cercando la migliore operazione di calciomercato vogliono puntare su uno giovane di prospettiva o guarda che arriva mi nonno a 718 anni con orgilello che fa le rovesciate e va bene ehm la Juventus questa la sapevo già da ieri e me la sono tenuta in caldo perché poi nel frattempo la pista si è surriscaldata eh in senso positivo per i bianconeri ulteriormente si sta pensando ad un centrocampista ehm che secondo me può essere importante in ottica bianconera eh per per le stagioni a venire qualora lo prendessero a Bibiarra dello Strasburgo quindi attenzione la Juventus sta cercando di chiudere sottotraccia no perché abbiamo scoperto ovviamente di questa operazione di calciomercato però sta cercando di chiudere quanto prima per assicurarsi le prestazioni sportive di questo calciatore che sembra avere insomma qualche importante prospettiva per il futuro non aggiungo altro potrei andare avanti perché ah no non vi ho detto la cosa più importante chiedo scusa ragazzi la situazione dei Samaric ecco era sfuggita ma stava a dire all'inizio se no sarebbe stato un macello ci pensa e ci ripensa ci pensa e ci ripensa non tanto il calciatore sembra che il padre da quello che ho capito procuratore o comunque l'entourage avrebbe chiesto ulteriori 300.000 euro di commissioni voi capite bene che se non è previsto nell'accordo che avevano stipulato qualche giorno fa giustamente l'Inter si è incazzata dice ma che sta a fare quindi che cosa è successo che l'Inter avrebbe detto a Samaric o se fa alle condizioni che avevamo prestabilito all'inizio o lo ha detto all'entourage ovviamente o teneva pure il ritorno a casa è una questione dei principi perché 300.000 euro per un club come l'Inter seppur insomma in questa situazione di crisi economica anche 300.000 euro fanno la differenza però sono abituati a spostare a milioni 300.000 euro insomma sono come 50 euro per noi praticamente e quindi hanno bloccato la situazione la trattativa e hanno detto a Samaric te ne vuoi pure tornare a Udine sembra che poi non lo so chi gli avrebbe detto aspetta resta qua a Milano pigliate in albergo cerchiamo di capire se ci sono ancora margini sembra che si sia risbloccata la situazione che la volontà di Samaric sia quella di andare all'Inter e che quindi questa trattativa alla fine si farà non passa ai visite mediche preparate perché tanto può succedere tutto no sto scherzando la voglio però insomma qua nelle vie del calciomercato sono infinite quindi ci pensa ci ripensa non tanto Samaric quanto chi tratta per lui no particolare non è la prima volta ormai che pure l'altra volta con Brozovic poi ci sta sempre l'Inter de Mezzo poracci gli hanno tirato la maledizione questa è la mamma di Lukaku sicuro al 100% io lo so io sto scherzando ovviamente ironia portami via ma non trovo grazie per la visione di questo contenuto ironia portami via alla prossima adesso con un nuovo video grazie a tutti